Siamo tutti diversi e dovremmo rispettarlo. Nessuno ha l'obbligo di adeguarsi ad un singolo modello di sviluppo che qualcun altro ha riconosciuto una volta per tutte come l'unico adeguato. Dovremmo ricordarci tutti cosa ci ha insegnato il passato, ricordarci anche episodi passati della storia dell'Unione Sovietica, esperimenti sociali basati su orientamenti ideologici, esportati per ottenere cambiamenti politici in altri paesi che hanno spesso condotto a conseguenze tragiche e degradanti invece che al progresso. Sembra, nonostante questo, che invece di imparare dagli sbagli degli altri, tutti stiano ripetendoli. Ecco così che l'esportazione di rivoluzioni, questa volta cosiddette democratiche, continua. Sarebbe sufficiente osservare la situazione in Medio Oriente e in Nord Africa. Certamente i problemi politici e sociali nella regione si sono accumulati da tanto tempo e la popolazione desiderava dei cambiamenti. Ma che cosa è successo alla fine? Invece di portare riforme, un'aggressiva interferenza straniera ha prodotto una evidente distruzione delle istituzioni nazionali e della vita stessa. Invece del trionfo della democrazia e del progresso abbiamo ottenuto la violenza, la povertà e il disastro sociale e a nessuno importa veramente nulla dei diritti umani, incluso il diritto alla vita. Non posso che chiedere a coloro che hanno causato questa situazione Vi rendete conto adesso di ciò che avete fatto? Ho tuttavia il timore che nessuno mi risponderà. Infatti, le politiche basate sulla presunzione, sul credersi eccezionali e godere di impunità non sono mai state abbandonate. È ovvio ormai che il vuoto politico creato in alcuni paesi del Medio Oriente e in Nord Africa abbia prodotto l'emergere di territori in cui vigila anarchia. Questi ultimi hanno cominciato immediatamente a popolarsi di estremisti e di terroristi. Decine di migliaia di soldati combattono sotto la bandiera del cosiddetto Stato islamico. Fra le sue fila ci sono anche ex soldati iracheni che sono stati lasciati per strada dopo l'invasione dell'Iraq del 2003. Molte reclute arrivano anche dalla Libia, un paese la cui struttura statale è stata distrutta in palese violazione della risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite del 1973. Ora i ranghi degli estremisti vengono aiutati da membri della cosiddetta opposizione siriana moderata, sostenuta dai paesi occidentali. Prima vengono addestrati ed armati e poi si uniscono allo Stato islamico. A parte questo, lo Stato islamico non è arrivato dal nulla. È stato creato come strumento per far leva contro regimi secolari indesiderati. Avendo stabilito una testa di ponte in Iraq e Siria, lo Stato islamico comincia ad espandersi attivamente in altre regioni. Cerca la dominazione nel mondo islamico e pianifica di andare ben più lontano. La situazione è più che pericolosa. In queste circostanze è ipocrita ed irresponsabile fare dichiarazioni rumorose sul terrorismo internazionale, mentre si chiudono gli occhi di fronte ai canali di finanziamento e di sostegno ai terroristi, incluse le pratiche del traffico di droga, petrolio ed armi. Sarebbe ugualmente irresponsabile provare a manipolare gruppi di estremisti, provare ad assoldarli per raggiungere i propri obiettivi politici, sperando di riuscire a gestirli o, in altre parole, ad usarli per poi liquidarli in un secondo momento. A coloro che credono che questo sia possibile vorrei dire, cari signori, senza dubbio state dialogando con persone crudele e violente, ma che non sono per niente primitive, sono intelligenti quanto voi e non saprete mai chi stia manipolando chi. I recenti dati sui trasferimenti di armi a questa opposizione moderata ne sono la prova migliore. Noi crediamo che qualsiasi tentativo di giocare con i terroristi per non parlare di armarmi sia cieco e potenzialmente catastrofico. Questo potrebbe determinare un incremento drammatico della minaccia terrorista e la sua espansione in nuove regioni, soprattutto perché lo Stato islamico addestra i propri soldati in vari paesi, inclusi quelli europei. Sfortunatamente la Russia non è un'eccezione. Non possiamo permettere a questi criminali, che conoscono l'odore del sangue, di tornare a casa e continuare con i loro crimini. Nessuno desidera ciò, vero? La Russia è sempre stata decisa e concreta nell'opporsi al terrorismo in tutte le sue forme. Oggi diamo assistenza militare e tecnica sia all'Iraq che alla Siria, che stanno combattendo gruppi terroristi. Pensiamo sia un enorme sbaglio rifiutarsi di collaborare con il governo siriano e le sue forze armate che stanno combattendo il terrorismo con valore faccia a faccia. Dovremmo poi riconoscere che nessuno, tranne le forze armate del presidente Assad e le milizie kurde, sta veramente combattendo lo Stato islamico e le altre organizzazioni terroristiche in Siria. Cari colleghi, devo notare che l'approccio diretto che la Russia ha avuto è stato usato come pretesto per accusarla di crescenti ambizioni, come se coloro che sostengono tutto ciò non ne avessero affatto. Comunque, ciò non riguarda le ambizioni della Russia, ma il riconoscere il fatto che non possiamo più tollerare l'attuale situazione nel mondo. Vorrei sottolineare questo. Indubbiamente i rifugiati hanno bisogno della nostra compassione e del nostro sostegno, ma l'unico modo per risolvere il problema alla radice è ripristinare l'autorità statale dove è stata distrutta, rinforzare le istituzioni governative, far avere un'assistenza globale, militare, economica e materiale ai paesi in una situazione difficile e, certamente, a quei popoli che non abbandonano le loro case, nonostante tutte le difficoltà. Naturalmente, ogni assistenza agli Stati sovrani può e deve essere offerta, non imposta, ed esclusivamente e solamente in ossequio alla Carta delle Nazioni Unite. In altre parole, tutto quanto viene fatto e sarà fatto in questo campo, nella misura in cui osserverà le norme del diritto internazionale, meriterà sostegno. Tutto quanto, invece, contraverrà alla Carta delle Nazioni Unite sarà respinto. Soprattutto, credo che sia della massima importanza ripristinare le istituzioni governative in Libia, sostenere il governo dell'Iraq e fornire una completa assistenza al legittimo governo della Siria. Colleghi, assicurare la pace e la stabilità regionale e globale rimane l'obiettivo chiave della comunità internazionale, con le Nazioni Unite al timone. Noi crediamo che questo significhi creare uno spazio di sicurezza equa ed indivisibile che non sia tale per pochi, ma per tutti. Sì, è un impegno faticoso, difficile e che richiede tempo, ma semplicemente non ci sono alternative. In ogni caso, lo schema mentale, abituato a ragionare per blocchi contrapposti del tempo della guerra fredda e il desiderio di cercare nuove aree geopolitiche, è ancora presente fra alcuni dei nostri colleghi. È riprovevole che alcuni dei nostri colleghi non abbiano finora scelto una strada diversa da quella che porta ad acquisire nuovi spazi geopolitici. Prima di tutto, hanno continuato la loro politica di espansione della Nato e delle sue infrastrutture militari. In secondo luogo, hanno offerto ai paesi dello spazio post-sovietico una scelta ingannevole, essere occidente o essere oriente. Prima o poi, questa logica di confronto era destinata a produrre una grande crisi geopolitica. Questo è esattamente a quanto accaduto in Ucraina, dove il malcontento popolare nei confronti delle autorità al potere è stato strumentalizzato e dove è stato orchestrato dall'esterno un colpo di stato militare che ha prodotto, come risultato, una guerra civile. Noi crediamo che solo una piena e leale attuazione degli accordi di Minsk del 12 febbraio 2015 possa porre fine al bagno di sangue e consentire di uscire dal vicolo cieco. L'unità territoriale dell'Ucraina non può essere assicurata con le minacce e con la forza delle armi. Quello che serve è una sincera attenzione per gli interessi e i diritti della gente della regione del Donbass ed un rispetto per la loro scelta. Bisogna concordare con loro, come previsto dagli accordi di Minsk, gli elementi chiave del profilo politico del paese. Questi passi garantiranno la crescita dell'Ucraina come paese civile, come un collegamento essenziale nella costruzione di un comune spazio di sicurezza e di cooperazione economica in Europa e in Eurasia.